Siamo con Simone Floris, allenatore dell'Atletico Sparta, purtroppo è arrivata una sconfitta. Che partita è stata? È stata una partita bella, intensa, molto equilibrata. Abbiamo preso un gol con uno svarione del portiere. Palla bagnatissima, campo bagnato, può succedere. Poi abbiamo perso un po' la testa, espulso da una parte, espulso da un'altra. Ci siamo sbilanciati per trovare il pareggio e alla fine abbiamo preso il secondo gol per un controchiato sbagliato nostro e fine della partita. Sì, tutto sommato una partita molto equilibrata, decisa sugli episodi, sicuramente poco da ricriminare. Molto poco, molto poco. Complimenti comunque per la prestazione, grazie. Grazie a voi, grazie a voi.